Presso il borgo di Chiaravalle milanese sorge il Cenobbio dei Benedettini Cistercensi, una delle più importanti attrattive dei dintorni di Milano. Nel Medioevo fu centro della colonizzazione agraria della Bassa nei dintorni della città, bonificando terreni paludosi, avviando avanzate pratiche culturali. Questo comportò lo svincolo degli ordini monastici in genere dal sistema politico-feudale e l'approccio delle comunità dei monaci verso la plebbe incolta. Il lavoro fu inteso a Chiaravalle come stimolo al miglioramento delle condizioni di vita e ciò portò il successo dell'abbazia, perché in tal modo fu legata alle fortune del libero comune. L'abbazia fu fondata da San Bernardo nel 1135, nel territorio allora chiamato Rovegnano. Fu la prima abbazia francese di Clairvaux, ma ebbe poi nel 1138 il suo primo abbate nella persona del monaco Brunone. Ma la prima chiesa fu sostituita da un nuovo edificio già nel periodo tra il 1150 e il 1160. Mentre la torre fu eretta tra il 1347 e il 1349. Nel 1442 fu trasformata in commenda e alla fine dello stesso secolo al primitivo Chiostro se ne aggiunse un secondo. Nel 1500 e nel 1600 fu affrescato dal Luini, dai fratelli Campi e dal Fiammenghino. Dopo la rivoluzione francese e gli avvenimenti che accaddero in Lombardia, il monastero cominciò a decadere e a subire sopraffazioni. I monaci furono allontanati e il Chiostro di stile bramantesco fu in seguito demolito per far passare addirittura una linea ferroviaria. Ci furono dei periodi di restauro ma alla fine i monaci ritornarono nel 1952. Un tempo l'abbazia era circondata da un muro di cinta, oggi nei resti della più antica torre di difesa è praticato l'ingresso. C'è subito una cappella in cui sostavano le donne che non potevano proseguire. segue un lungo corpo di fabbrica che nel 1400 costituiva la foresteria. Di qui sul piazzale si vede la facciata a capanna della chiesa preceduta da un portico in cui si apre il portale centrale in stile gotico. Visitando la chiesa all'interno vedremo la grande navata centrale divisa in quattro campate. Le arcate a tutto sesto, i grandi affreschi, il ricchissimo coro intagliato in noce, il sedile intarsiato dell'abbate nel presbiterio del 1576, la madonna con bambino e angeli di Bernardino Luini lungo la scala che reca all'antico dormitorio, la quattrocentesca sagrestia. Ai piedi della testata del transetto è da notare la splendida resurrezione di Giacomo Manzù del 1976, accanto alla quale è la vetrata da cui l'occhio spazia sul cimitero e sulle antiche sepolture duecentesche. Una curiosità, la seconda edicola del cimitero conteneva i resti di Guglielmina Boema, una strega processata dopo morta come eretica e la cui salma fu dissepolta e bruciata. Dalla parte opposta, lungo il lato destro per chi guarda la facciata, è il chiostro in stile gotico del 1200. Accanto c'è lo stemma dell'abbazia con la cicogna e il pastorale che attesta la data di fondazione 11 febbraio 1135. Di qui si aprono il refettorio trecentesco e la sala capitolare che conserva tre graffiti bravanteschi con vedute di Milano. Dallo spigolo sud occidentale del chiostro si può osservare la torre nolare, elevantesi per 52 metri dal tiburio della prima metà del 1300, elegantemente retta con bifore e loggette con colonnine.